Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto monitor BNQ GW 2260 eitometri LCD. BNQ 54, 6 cm GW 2260 eitometri 16. 9 DVI-HDMI LEGS QUARTS GLANT SPEAC. TFT monitore. BNQ. 9 H. L9 DLA. TB. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazonity, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.